Homo Faber è dedicata all'artigianato, ma è dedicata soprattutto agli uomini che fanno le cose con le mani per evidenziare e spiegare bene che fare le cose con le mani ha più valore che fare le cose con le macchine. Questa mostra vuole dimostrare che l'artigianato è una bellissima e attualissima maniera per innovare, per guardare al futuro. Qui ci sono otto designer europei, abbinati a otto maestri artigiani del loro paese o della loro regione, che progettano oggi qualcosa di completamente nuovo sul tema di oggetti con un interno. Oggetti con un interno è una maniera per dire che gli oggetti non vanno guardati solo per la loro superficie, e nella loro superficialità, ma vanno guardati più in profondità per quello che sono veramente. E noi non pensiamo mai che gli oggetti hanno anche un interno e che anche le case, gli edifici, i palazzi hanno un interno e sono degli oggetti. C'è chi ha visto gli interni solamente come l'interno di un cabinet, di un armadio, di una cassettiera, ma chi l'ha vista anche come un interno sacro, un luogo dove tenere qualche cosa che ha un valore in più, che spinge l'immaginazione ancora più lontano. E questo ha un po' gratificato tutti quanti, perché abbiamo notato che tutti quanti, quando si avvicinano a questi oggetti, vogliono saperne di più, vogliono capire non solamente quello che vedono, ma anche quello che non vedono. E questo è stupendo.